buongiorno a tutti noi siamo appena arrivati qui a torino per goderci questa ultima fiera dell'anno quindi benvenuti in questo nuovo video e benvenuti al chrismas qui a torino chrismas come si e abbiamo anche voi con natale a tutti Grazie a tutti Buongiorno! Ciao! Esatto! No, povero buon Natale! Bravo bambino! Eccoci il nostro amico Evandro qui al Torino Comics! Buon Natale! Questi incontri del Christmas Comics! Belli! Puoi vedere il tuo figlio? Puoi vederlo? Che belli! No, siete bellissimi! Che bellissimi! Grande Maradona! Ci sta, ci sta, ci sta! Grande, bella idea! Dove vai? No, che stai facendo? No, che stai facendo? No! Oh, ma che belli! Belli! Buongiorno! Ciao! Amo! Siete bellissimi! Complimenti! Siete bellissimi! Siete bellissimi! Che sta! Si sta! Si sta! Grazie a tutti.